Ciao ragazzi, come stai? Tutti bene? Spero di si, ben intornati in questo mio nuovo video Io sono Franci.pink e oggi faccio un video super 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 bellissimo per me ovvero visto che ho fatto ho iniziato a fare la serie back to school ovvero borse, accessori, makeup, capelli adesso ci saranno anche gli outfit, oggi vi farò vedere per back to school sono stra emozionata perché probabilmente anche io riuscirò a fare le serie back to school 2021 settembre 2021 prima di iniziare se queste serie di video vi piacciono, mi raccomandoci di tantissimi pollici in su iscrivetevi al canale e cliccate alla campanellina cosa almeno quando pubblico un video voi non ve lo perderete vi dico a lei un bacione grande e iniziamo iniziamo con il primo outfit voilà, questo è un ultimo outfit questo è un primo outfit, la notte della nasa con i primi 3 jeans una bella genitorina, ovviamente delle sneakers con le tè e questo outfit che lo adoro ovviamente, aspettate la maletta passava anche fuori se mi senti che esco fuori e magari per quindi levare la maletta e mi raccomando qui la prima l'avevo salata, l'avevo tipo così me la sono dovuta mettere fuori le jeans e visto che non passava da niente e anche la pancia ovviamente le dovevo mettere di lato e fare questo che ve ne pare, sarebbe che faccio una salata più decente aspettate questo è il mio primo outfit questo è il mio primo outfit ditemi cosa ne pensate sembra ovviamente ovviamente io mi sento la maletta quando viene non ne hai che fare subito quindi queste merito porte queste qui e dopo chi ha tipo 15-16 anni può mettere le merito 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 andiamo con il secondo outfit secondo outfit allora qui sono andate un po' più sulla comodità ho scelto questa camicetta così i jeans sono sempre quelli e anche gli scherzi la magliettina perché credo che era un po' più scolata invece se è così mi faccio mettere la collana sempre quella ovviamente poi devo proprio mettere gli outfit anche le collane e e io sto idu a mettere le collane potete mettere zitto quello che volette questo mia mia è Scrivetevi cosa ne pensate noi di Shorts Baby. Andiamo con il terzo outfit! Qui ama il nero perché ama il nero e perché gli va un po' storta la luna perché ha la luna un po' storta. E questa volta c'è questa multipra nuova con questo arricciamento. La nuova sembra. No, CM. Così. Poi qui c'ha tutti questi. Uno, due, tre, più la cerniera ovviamente. E la jeans così e la dance nero. Faccio vedere. Allora. Già. Le faccio vedere. Le dance. Le la rimetto e faccio vedere. 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 E anche, per l'altro è quella che va più oltre. Le la rimetto e faccio vedere. Cioè, io mi limenterò. Le la rimetto. Cioè, io mi uscirò. Le la rimetto e faccio vedere come. Il quarto outfit, i pantaloni sono sempre gli stessi, sono sempre gli smaricapati. Siamo andando alla maglietta, cosa che è di Hard Rock. Io, con questi video di idee outfit, sto cercando di completare anche più meccanze outfit. Adesso c'è un po' di magliette. Uno, due, tre. Voilà! Questo perché hanno i colori sgancianti, un arancione di terra nuova, un arancione molto diverso. Sempre le stesse scarpe. Qui, tre, due, uno. Voilà! Questo è il pantaloni sempre gli stessi, anche se ha presenza stessa la maglietta. Questo è per chi è il più colorato e più piatto. Questo qui mi piace veramente. ... ... ... andiamo con il sento il stesso patrono e maglietti e le state ma la magliette questa è la vera di guess di guess la adoro pazza il lavoro tantissimo quanti non riscattati sono più uguali allora 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 5 4 5 5 6 6 7 5 7 8 8 8 9 9 10 9 10 10 11 11 11 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21 21 22 22 22 22 22 25 25 26 21 24 25 Grazie a tutti